Buongiorno 8.30 e 30 secondi ancora una volta il perfetto orario perché quando è partita la sigla devo fare complimenti al nostro tecnico stamattina Marco Cervelli erano le 8.30 e 7-8 secondi quindi il perfetto orario mi rivolgo agli ospiti di questa mattinata sono con noi Vincenzo Suffredini e Michele Rocchiccioli alla Vincenzo Suffredini vedete la loro felpa il Cefa Basket così come Michele che è stato giocatore che è un tecnico del Cefa Basket Castenovo ma Vincenzo questa mattina lo vogliamo sfruttare anche come responsabile della protezione civile del comune di Castelnuovo Garfagnana e posso dire insomma un personaggio, una persona che da tanti anni come tecnico lavora in quel settore e alla luce anche Vincenzo di quello che è successo negli ultimi giorni e di quello che ormai sta succedendo da un paio d'anni insomma la tua presenza ci servirà anche per quello è così come con Michele parleremo di prevalenza di basket non è che fai parte anche tu della protezione civile no no ancora no no ancora no ma ci sentiamo ci sentiamo un po' tutti ormai no Michele dentro questo tourbillon alla luce di quello che è successo una settimana fa per forza va bene dai allora Vincenzo che viene a trovarci ancora una volta però dopo un po' di tempo e per la prima volta nei nuovi studi come ti piace? beh ho trovato gli studi molto rinnovati rispetto agli ultimi un po' migliorati molto molto migliorati un po' migliorati complimenti grazie Vincenzo va bene dai naturalmente col Cefa Basket poi stamattina non possiamo che parlare lo faremo anche del torneo internazionale di mini basket Cefa giunto alla 24esima edizione si quasi nostri d'argento no dico mi sembra ieri che ne parlavamo perché posso dire che il vostro torneo nato nel 91 nato nel 91 nel 91 in pratica più o meno è coetaneo lo posso dire di noi tv è vero e anche del sottoscritto non perché è sottoscritto a 24 anni non ha qualcuno in più ma perché anche il sottoscritto da allora in pratica è dipendente lavora con con molta umiltà e modestia in questa internazionale eh sì dai vecchi studi del ciocco i primi studi del ciocco sì dai vecchi studi del ciocco le presentazioni mi ricordo sempre al ciocco dei tempi certo sì sì è nato infatti hai ragione su questa cosa io comincerei comincerei da qui proprio vista la presenza anche di Michele da questo da questo torneo ho giunto alla alla 24esima edizione non vi siete mai fermati l'avete sempre portato avanti e insomma anche quest'anno mi sembra che i numeri parlano in modo eloquente avete già disputato l'altro due giornate due giornate della fase regionale sì perché abbiamo purtroppo diciamo subito cercheremo di provvedere nelle prossime settimane non abbiamo immagini abbiamo però credo delle foto che ci avete portato come sono andate queste prime due giornate beh bene due giornate intense abbiamo la prima fase regionale dove sono iscritte 22 squadre quindi abbiamo quattro gironi tre gironi da sei e un gironi da quattro nelle quattro domeniche di di marzo e le prime le vincenti dei quattro gironi disputeranno la finale regionale il 12 di aprile sempre a casa sempre a palazzetto sempre a palazzetto di Castanò poi di consertutine vi sarà la finale la fase internazionale l'1,2,3 maggio dove vi sarà la vincente e forse alcuni ripescaggi della fase regionale con diciamo la parte il club il club della manifestazione con la fase internazionale che vedrà 16 squadre e abbiamo già l'adesione anche quest'anno della squadra bielorussia della squadra ungherese della squadra croata questi sono i vostri scusi eh perché li dobbiamo commentare per i che abbiamo visto prima sono i vostri arbitri no sono i mini arbitri del GAP di Lucca sì sì sono due ragazzi perché il torneo è patrocinato ormai da anni dalla federazione e la federazione eh tramite il comitato provinciale di Lucca invia i mini arbitri proprio per gli arbitraggi erano due ragazzini eh molto in gamba molto bravi di credo qui di Lucca eh dodici anni quindi un anno in più dei ragazzi che giocavano e la cosa che noi sottolineiamo tante volte Michele anche con con gli amici dell'Atletica della Virtus Lucca è che loro prendono questi bambini con la pratica dal settore giovanile poi quelli che un giorno smettono diventano istruttori della Virtus in un certo senso questo accade anche da voi sì 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 perché anche tu sei nato come al CEFA poi sei diventato allenatore giocatore eh sì io ho iniziato sette anni a giocare ecco ho fatto il torneo sei riuscito a fare il torneo sì nel 94 quindi insomma una delle prime edizioni una delle prime edizioni che ricordo hai di quella tua prima insomma fare il torneo ora quando l'ho fatto io non era ancora a 16 era a 8 era ancora un po' più ridotto però c'erano già squadre mi ricordo noi abbiamo giocato contro Budapest quindi era già a livello internazionale famoso Budapest che vinse anche diverse edizioni e poi dopo nulla crescendo diciamo sei rimasto nella società sei diventato allenatore allenatore struttore allenavi anche la prima squadra lo sbaglio no io faccio giovanili e settore miniatur giovanili e settore giovanili mi sbaglio chi è il vostro tecnico Sufredini ecco ecco non parente ma Sufredini Rocchiccioli Sufredini ho fatto un po' di confusione vabbè tra l'altro voi lo scorso anno Vincenzo avete fatto il campionato di Serie D di Serie D che esperienza è stata? è stata un'esperienza diciamo sul piano dei risultati no sul piano dei risultati sì però è stata un'esperienza che ha fatto crescere un'esperienza noi siamo arrivati dalla squadra senior praticamente in tre anni abbiamo avuto due promozioni quindi due anni molto intensi con ragazzi diciamo molto giovani perché la nostra è una squadra molto giovane proviene dalle nostre fatte in casa fatte in casa abbiamo avuto un apporto di alcuni ragazzi di Lucca allo scorso anno la Serie D effettivamente noi l'abbiamo fatta con la solita squadra della promozione e logicamente abbiamo trovato un grosso salto di categoria senti poi torniamo a parlare del torneo dei minibasket anche perché ci dovrei dare anche qualche intanto dobbiamo ricordare che le prime due squadre qualificate sono la Bronica Basket di Livorno di Livorno 2004 specifico perché domenica prossima ci sarà il 2005 sì ha due squadre il 2004 e il 2005 e poi l'altro ieri pratica domenica scorsa è passato il centro minibasket di Lucca di Lucca quindi queste sono le prime due e poi ne parliamo senti ora lasciamo per un attimo il basket il minibasket e parliamo di quello che è successo più o meno una settimana fa tu segui insomma il settore della protezione civile e quando si parla di protezione civile si parla ovviamente di tutti quegli eventi purtroppo che sempre più frequentemente ci colpiscono senza andare troppo indietro poi magari ci andiamo a terremoti alluvioni varie quello che è successo nella notte tra mercoledì e giovedì visto da Vincenzo su Fredini insomma di semplice cittadino al di là del tuo del tuo ruolo nella protezione civile beh la prima cosa che arriva all'occhio che arriva alla mente è logicamente l'eccezionalità dell'evento che noi non eravamo non dico pronti ma non eravamo preparati non preparati non eravamo cioè un evento del genere logicamente da noi è andato al di là di ogni no al di là di ogni previsione noi pessima previsione faccio un esempio nel nostro piano di protezione civile comunale abbiamo inserito tutti i rischi logicamente non c'è il rischio vento perché io a sentire anche a detta dei vecchi degli anziani una cosa del genere non è mai avvenuta non si era mai vista a memoria forse un po' di più nella zona della Versilia che è un po' più abituata a degli piccoli cicloni eccetera ma anche se purtroppo abbiamo visto tutti i danni che ha fatto questo tipo di evento ma non sicuramente un evento del genere tra l'altro anche parlavamo prima del palazzetto dello sport di vostro eh sì su Castelnuovo ci sono stati parecchi danni non grandissimi ma tanti piccoli danni il palazzetto è già stata una parte scoperchiata il campo da tennis purtroppo è completamente ceduta la copertura del campo da tennis e poi insomma vabbè piante cadute in varie zone molti privati danneggiati anche da noi anche nella nostra zona giovedì mattina tra l'altro la Carfagnana per qualche ora è rimasta completamente isolata è rimasta completamente isolata è un tema che probabilmente ora posso ricordare il discorso che ha fatto il sindaco Tagliasacchi davanti al prefetto domenica cioè questo è un tema che va affrontato perché la nostra viabilità purtroppo abbiamo visto che qualsiasi evento succede purtroppo va in crisi e i nostri politici devono veramente prendere in serie considerazione anche a livello regionale e nazionale di cercare di trovare una soluzione perché in qualsiasi evento che c'è stato dal terremoto c'è sempre stata una criticità in una zona che purtroppo è soggetta a eventi sismici ad alluvioni e anche al vento abbiamo visto ormai negli ultimi anni che non c'è stato un mese che non ci sia praticamente stato qualcosa Michele tu come l'hai vissuto questa tempesta di vento ma io chiaramente tu sei molto giovane ma non l'hanno vissuta neanche le persone più anziane assolutamente non me ne aspettavo una cosa del genere per di più ciò di mattina sono venuto a Lucca proprio alle 7 la mattina quindi tutti gli alberi in mezzo alla strada lo trovo no 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 ma poi ora noi dicevamo del collegamento con la Garfagnana ma anche i pendolari da Lucca hanno vissuto una giornata anche il treno è rimasto fermo una giornata tremenda e collegamenti stessi con la ferrovia questa tempesta di vento che ha provocato gravissimi danni anche ad un settore quello dell'agricoltura noi in tal senso allora Marco possiamo sfumare per il momento questa immagine abbiamo preparato questo servizio ieri in redazione i danni poi diceva anche ieri mattina credo che ci vorrà ancora un po' di tempo per quantificarli e forse andranno anche al di là in questo caso posso fare non un appello noi come comuni dobbiamo entro domani dare una quantificazione minima alla regione quindi abbiamo mandato anche un comunicato quindi chi ha avuto dei danni che si rivolga al comune perché noi dobbiamo quantificare in larga massima il numero delle persone colpite e delle abitazioni logicamente questo è un censimento non è una richiesta da anni ma servirà poi alla regione appunto per fare il punto della liquidazione quindi abbiamo ancora un giorno di tempo per poter dare queste informazioni alla regione e Vincenzo naturalmente si riferisce al fatto che ognuno si deve rivolgere logicamente al proprio comune ora non vi rivolgete tutti a comunicazione no no ognuno al proprio comune i suoi collaboratori spazziscono nel prossimo ore va bene vediamo questo servizio sull'agricoltura e sui danni insomma che questa tempesta di vento ha provocato in un settore anche nevralgico per la nostra economia e qui c'è 25 mila euro di serie nuove e poi tutto raccolto faccio i pomodori c'è un pomodoro troppo ordinato tutto il tetto l'ho rifatto poi tutto il lavoro perso ammontano a circa 10 milioni di euro i danni all'agricoltura provinciale causati dalla tempesta di vento di giovedì scorso a soffrire maggiormente sono state le serre versiliesi con le colture di ortaggi e florovivaismo sono i dati stimati dall'associazione di categoria ma che sicuramente andranno approssimati per difetto serie scoperchiate danni alle strutture con un aspetto particolarmente grave una disperazione da parte di vari floricoltori che dicono a queste condizioni non si ha più la forza di rincominciare questa potrebbe essere una perdita secca di produzione che porterà porta gravi danni da un punto di vista economico da un punto di vista dell'occupazione eccetera i vertici nazionali della CIA hanno effettuato una prima ricognizione delle aziende colpite insieme al governatore Enrico Rossi e al ministro Martina che hanno garantito l'impegno di governo e regione a sostegno degli agricoltori anche se una delle strade da perseguire secondo la CIA è quella di realizzare un fondo assicurativo che metta in grado le aziende di affrontare emergenze del genere questo l'abbiamo chiesto diciamo che da parte del ministro e del presidente Rossi c'è stata una grande disponibilità per ora impegni a studiare le questioni niente ancora di concreto ma di qui in avanti noi terremo sotto controllo la situazione Allora vediamo anche le prime pagine dei giornali locali cominciando dalla cronaca di Viareggio del Tirreno dopo la tempesta il caso manodopere materiali l'emergenza i penne costi da 1500 a 4500 euro per segare e rimuovere gli alberi crollati sulle abitazioni la denuncia dei sindaci lombardi e buratti alle forze dell'ordine è sciacallaggio purtroppo in questi casi è una componente lo sentivamo raccontare ai tempi della guerra dicevano c'è sciacallaggio e invece purtroppo c'è chi ci specula in modo mi permetto di dire abbastanza vergognoso su queste su queste disgrazie poi a proposito del censimento per il momento dei danni forse venerdì il via libera allo stato di calamità la regione sta aspettando le notizie entro domani poi il dibattito saltato il modello Versilia di protezione civile beh tu sei dentro la protezione civile in questi casi però voglio dire si può dire salta il modello saltano tante cose non lo so ora la Versilia è stata colpita in modo ancora più più violento non so di preciso a cosa si riferisce l'articolo ma il modello Versilia è sempre stato ritenuto a livello di coordinamento io però ripeto non so a cosa si riferisce l'articolo uno dei modelli su cui poi è nata anche la protezione civile regionale nel senso il coordinamento dai vari enti tra il più piccolo quindi il comune ed il sindaco che poi diventa ufficiale di governo quindi la massima autorità all'interno del proprio comune quindi al centro intercomunale superiore alla provincia e quindi alla regione poi a proposito di sindaci sul quenne la nazione lucca c'è il sindaco di lucca tambellini che dice disponibile a ricandidarmi sindaco tambellini rompe l'induce annuncia di essere pronto a lanciarsi per un secondo mandato poi sempre rimanendo nel capoluogo l'insostenibile giungla dei parcheggi il viaggio che la nazione ha fatto tra aree abbandonate tariffe vantaggiose non sempre pubblicizzate se sono vantaggiose forse non conviene pubblicizzare conviene pubblicizzare quelle dove si paga di più tanto siamo sempre lì poi a proposito di treni treni altra giornata di inferno anche di inverno ma più che altro di inferno studenti ubriachi e molesti scattano le denunce vediamo sempre dalla cronaca di lucca ma dal tirreno sequestrate due case mobili e nomadi sono scattati i sigilli dopo la richiesta presentata dalla procura in seguito a un controllo congiunto carabinieri vigili urbani poi già individuati alcuni autori delle minacce al giudice su FB nelle prossime ore verranno oltrate su Facebook naturalmente verranno oltrate la richiesta a Facebook Italia per verificare se al nome dell'autore delle intimidazioni corrisponde l'effettivo profilo web e qui c'è qualcuno che su web ci va fa le minacce poi dopo magari lo rintracciano e poi passa di qua Medievale Carfagnana si parla di Barga Rebus Aree Verde Palazzetto Chiuso lavori da 800 mila euro ma non ci sono intanto la Tonia Relli lascia l'opposizione dice Serenimia Deluso e poi Antisciana in festa per Norina qui è nel vostro comune no? Sì Noi tra l'altro abbiamo già proposto un servizio per questa nonnina pensate di se non ricordo male di 100 anni sì 100 anni poi vediamo ancora ecco questa invece è la notizia che riguarda il sfortunatissimo ne avrete sentito parlare no Michele? Federico Mattiello la valle aspetta Mattiello il medico si riprenderà grande dimostrazione d'affetto per il giocatore nato a Borba Mozzano c'è anche chi lo invita a passare in zona almeno parte della convalescenza e ora non lo so Federico quello che farà perché fa la sua vita privata ma siccome la convalescenza sarà abbastanza lunga io credo che una parte la trascorrerà anche con i suoi qui a casa poi sono anche cose queste un po' devo dire un po' private Tognarelli lascia il gruppo di Sereni e poi Vagli che arriva anche la statua di Quattroocchi dopo Schettino e De Falco nel parco voluto da Puglia ricordo del contractor ucciso in Iraq ricorderete Quattroocchi sì era il pilota se non ricordo male Vincenzo te lo ricordi tu si parla forse della prima guerra del Golfo è la prima guerra del Golfo sì quindi avvagli nulla il sindaco Puglia sta creando un simposio di scultura con personaggi va bene dobbiamo fermarci pausa pubblicitaria quando torniamo riprendiamo ancora a parlare naturalmente di tanti argomenti con Vincenzo Suffredini e Michele Rocchiccioli a tra poco 8.48 ancora in diretta dagli studi di Buongiorno con noi ospiti questa mattina Vincenzo Suffredini e Michele Rocchiccioli dirigente tecnico del CEFA Basket Castelnuovo ma con Vincenzo Suffredini approfittiamo della tua presenza ti sfruttiamo stamani anche per il tuo ruolo di responsabile della protezione civile della comune di Castelnuovo Garfagnana senti ti voglio chiedere Vincenzo qual è stato il momento perché tu mi dicevi mamma mia sono due anni ormai in pratica dal gennaio del 2013 quando ci fu il famoso ricorderete era mi sembra il 31 gennaio ricordo che era un giovedì perché noi eravamo 31 gennaio eravamo ancora prima il sisma poi la lì nella sede vecchia Vincenzo quella che ben conoscevi e quella sera lì mi ricordo che era di giovedì perché avevamo in diretta la trasmissione Curvo Ovest che facciamo tutti i giovedì ormai da qualche anno sulla Lucchese e lì successe di questa allerta poi a giugno ci fu qualcosa anche di più complicato poi le alluvioni le piene del Serchio che come giustamente sottolineava l'altra sera anche il presidente Baccelli ormai sono diventate frequenti ottobre 2013 gennaio 2014 novembre 2014 tutti eccezionali eventi tutti dichiarati state le calamità qual è stato il momento per te di tutto di questo periodo di due anni e poco più più difficile più complicato allora sicuramente proprio per l'imprevedibilità diciamo dell'evento è stato l'allerta l'allerta quella del 31 gennaio quello del 31 gennaio perché è stato la particolarità è questo che sto dicendo perché non c'era stato l'evento allora di fatto avevamo avuto quattro giorni prima la forte scossa e noi abbiamo un piano di protezione civile che prevede alcune cose in caso di sisma prevede un'allerta automatico almeno il nostro piano proprio per cercare di superare certi momenti quindi perché sappiamo le difficoltà durante dopo una scossa non vanno le linee telefoniche non c'è possibilità di comunicazione eccetera quindi abbiamo un tipo di allerta che è automatico quindi ognuno sa quello che deve fare e dove deve recarsi questo è il caso di una scossa il 31 la difficoltà fu questo famoso fax che arrivò dal dipartimento quindi la prima fase se non sbaglio il sindaco non era ancora Andrea Tagliassetti no no era Gaddo Gaddi era ancora Gaddo Gaddi sì in quel caso lì sì la difficoltà di prendere una decisione di fronte ad una diciamo a quattro righe che dicevano alcune cose abbastanza pesanti è parso un modo dall'esterno noi che non la viviamo naturalmente da tecnici prima battuta da parte di chi perché il fax arrivò dal dipartimento a firma di Gabrielli sì da parte loro quindi da parte di Gabrielli che c'era capo di mettersi un po' con le spalle al muro io lo dico dopo tutto quello che sapete vedi anche i successivi processi che è successo all'Aquila è probabilmente io credo personalmente personalmente penso che sia frutto un po' di quella situazione perché nessuno voleva più prendersi delle responsabilità la nostra è una zona sismica e su quello Gabrielli ha ragione dobbiamo lavorare sulla prevenzione dobbiamo lavorare su piani dobbiamo lavorare sulla protezione civile dobbiamo lavorare su tante cose però il momento in cui arriva la scossa è sempre difficile capire se tornerà se ritornerà se arriva più forte un fax del genere ha fatto capire che c'era comunque qualche cosa in corso e giustamente io ritengo hanno fatto benissimo i sindaci a fare quello che ha fatto tra l'altro in una zona dove la protezione civile comunque c'è un'organizzazione abbastanza pronta e questo è stato quello che ha permesso che non sia successo niente o che comunque abbiamo gestito questo tipo di emergenza comunque in modo io credo dignitoso e che siamo riusciti comunque a gestirla e a controllarla aggiungo e poi voglio tornare anche da Michele per parlare anche di quello che succederà invece domenica dove tocca a voi se non sbaglio aggiungo che anche quello che poi successe qualche mese più tardi mi riferisco al 21 giugno 2013 e diciamo quei 10-15 giorni successivi la Garfagnana lì in particolare la Garfagnana e l'Alta Garfagnana comunque a cominciare dalle popolazioni a cominciare da tutta la struttura dimostrarono di essere il centro di protezione civile cominciano ad esserci logicamente la nostra zona dimostrano di avere una preparazione c'è coscienza una coscienza e una cultura e la protezione civile in generale il centro intercomunale i vari sindaci ormai stanno entrando in un'ottica in cui in cui si sa ormai la protezione civile non è più un qualche cosa di sentito dire o non si sa cos'è che tra l'altro la protezione civile siamo tutti dal cittadino perché l'autoprotezione formare sul cittadino un senso di autoprotezione è una cosa fondamentale perché ci dà lo spunto ne parliamo dopo proprio un servizio che abbiamo proposto e dove avete visto proprio Vincenzo Suffredini anche in prima persona di questi corsi che state organizzando di protezione civile e poi ne parliamo torniamo al poi andiamo anche a vedere i giornali nazionali allora domenica terza giornata girone verde sì perché è simpatico che avete messo a questi gironi li avete ribattezzati con dei colori avete cominciato con il giallo poi il rosso domenica scorsa il verde e finirà l'azzurro sei squadre Cefa Castelnuovo Labronica 2005 Olimpia Legnaia Cgc Viareggio Audax Carrara e Bulldogs di Calenzano sei squadre ci siete anche voi ci siamo anche noi domenica eh Michele che squadra hai a questi livelli ne parlano è difficile fare dei pronostici sono vivi piccoli è impossibile perché varia a seconda dei gruppi delle annate un po' come il vino sì ma tu che squadra pensi di avere ma noi stiamo lavorando stiamo lavorando stiamo migliorando però c'è tanti bimbi nuovi tanti bimbi piccoli del 2005 invece che del 2004 quindi una squadra giovane è che soprattutto 2005 vuol dire che hanno dieci anni soprattutto un anno o meno soprattutto a quest'età ancora diciamo si privilegia l'aspetto ludico-motorio non è che c'è già il giocatore no no nel mini basket un anno è tanto tempo eh sì sì a quei livelli lì un anno è fondamentale anche probabilmente anche sei mesi non lo so va bene dai vedremo è la favorita no non si può dire neanche quella assolutamente assolutamente poi non conoscendo le squadre che vengono fuori dalla provincia non possiamo fare i pronostici caro Vincenzo Suffredini se diciamo che il comune che per Castelnuovo è un po' diciamo un comune non so adesso se dire cugino ma insomma transapuano ma insomma molto vicino per tanti motivi no se diciamo che il comune di Forte dei Marmi è stato il comune più colpito dall'ultimo evento credo che andiamo andiamo vicinissimi alla realtà no è la realtà penso che sia la realtà è la realtà lì veramente abbiamo visto tutte le immagini no lì veramente abbiamo io proprio ieri sera per la prima volta ho visto delle immagini delle pensiline dove si aspetta il pullman divelte con il blocco di cemento che le cose che digi ma lì veramente vabbè il comune di Forte dei Marmi è il più colpito e noi ieri abbiamo realizzato questo servizio poi torniamo con i giornali nazionali il primo bilancio dei danni provocati dalla tempesta di vento a Forte dei Marmi dà le dimensioni del disastro i numeri sono stati forniti dal comune il 45% delle abitazioni del Forte all'incirca 4.000 sono state lesionate o dagli alberi caduti o a causa dei tetti scoperchiati dal fortissimo vento i danni ai privati ammontano complessivamente a circa 40 milioni di euro senza contare il patrimonio arboreo cinque giorni dopo la tempesta la rete Enel era stata riattivata solo per un 60% parallelamente gli operai stanno ancora procedendo allo sgombero delle strade invase dai tronchi di alberi abbattuti in totale il costo per il ripristino della viabilità e il trasporto del legname al punto di stoccaggio allestito con Ersu nell'area delle ex colonie al confine con il Cinquale si aggirerà su un milione di euro sempre in termini di cifre sono stati circa 500 i pali della luce venuti giù mentre i danni riportati dagli edifici comunali ammontano a circa 300.000 euro ai quali si devono aggiungere i 40.000 euro del palasport di Vittoria Puana ancora inagibile infine almeno una buona notizia da mercoledì riaprono tutte le scuole anche se quella dell'infanzia la Giorgini dovrà trovare sede provvisoria presso la Carducci per consentire la messa in sicurezza dell'edificio che normalmente la ospita in via di Amascagni beh nonostante sia passata una settimana Michele vedo che queste immagini continuano ancora a colpire sono veramente impressionanti vedere quegli alberi caduti come stuzzicadenti fa paura no viene da voglia anche dire forse facendo i debiti scongiuri che Dio ci risparmi anche in futuro però forse neanche il terremoto è riuscito a fare cose del genere e beh fa altri tipi di danni sicuramente però appunto proprio l'eccezionalità dell'evento io credo che è una cosa ma ho sentito addirittura che alcune raffiche sono andate quasi a 200 km all'ora come si spiega non so adesso tu ti ho no io non ho come si spiega si spiega in qualche modo ma comunque sia c'è un qualche cosa che cambia su quello che riguarda il clima su questo io credo parliamo di clima su scala globale su scala globale perché ormai è improponibile si fa spesso riferimento anche all'uomo alla cementerizzazione però su alcune cose non si può dire dopo quel che è successo una settimana fa sentire dei commenti l'incuria del territorio stavolta veramente è la prima cosa che viene da ridere stavolta ma che incuria del territorio se il vento soffia come pare si è soffiata ad oltre 200 all'ora e sradica degli alberi secolari come è successo con il cipresso del Pasquale anche a Castelvecchio quando si parla di secolarità di un albero vuol dire che era lì da secoli se era lì da secoli vuol dire che prima perlomeno negli ultimi due o tre secoli qualcosa del genere non era mai successo è cambiato qualcosa a livello di clima quello sicuramente infatti su questo argomento lo sapete sto preparando qualcosina una mattina che poi porterò qui se ce la faccio un personaggio che avrà le sue cose da dire se ne assumerà tutte le responsabilità logicamente ma forse è anche il momento di cominciare a farsi qualche domanda perché qui rirende scherzando ogni giorno stiamo assistendo mi viene in mente tanto per uscire dal nostro territorio che poi questa tempesta di venta ha colpito anche le province limitrofe si diceva ma per andare proprio anche dall'altra parte dell'oceano l'inverno che stanno vivendo gli americani della zona nord orientale stanno vivendo un inverno artico quindi vuol dire che lì qualcosa effettivamente sta cambiando e le prime pagine dei giornali poi dobbiamo andare dei giornali nazionali il Corriere della Sera Berlusconi è ancora assolto la Cassazione conferma la sentenza di secondo grado nel processo Rubi in appello l'ex premier era stato prosciolto dalle accuse di concussione e prostituzione minorile poi c'è stata questa tragedia per questo reality là in Argentina il selfie dei campioni prima della tragedia tra gli atleti che purtroppo hanno perso la vita per la causa di questo scontro tra due elicotteri è veramente stato un scontro terribile perché di questi elicotteri non è rimasto pratica nulla le briciole tra i campioni forse la più famosa era Camille Muffat una nuotatrice grande rivale per diversi anni della nostra Federica Pellegrini poi via libera la riforma della Costituzione in Forza Italia contestata la linea del leader quindi Berlusconi comincia ad avere qualche serpe in seno forse purtroppo per lui non forse la Repubblica sia la riforma divisi Partito Democratico e Forza Italia via libera l'abolizione del Senato il dissenso dei ribelli di Forza Italia scontro Verdini-Brunetta mi pare una situazione un po' di tutti contro tutti è una situazione molto come spesso capita purtroppo nella nostra politica molto caotica poi la strage dei campioni Francia sotto shock e qui c'è un approfondimento secondo me molto interessante di Manuela Audisi ho letto qualche riga la seconda vita cercata in tv quindi probabilmente questi personaggi spesso capita attori ma anche campioni dello sport che in questi reality vanno a cercare forse una nuova ribalta una nuova visibilità che dice Vincenzo vediamo anche noi con l'isola dei famosi questi reality poi purtroppo qui invece c'è poco di reality perché c'è io Isis il video del boia bambino che uccide agente del Mossad ecco quando poi li vedi i bambini che compiono questi atti veramente ti viene tanta angoscia dentro perché vuol dire che veramente non ci siamo che c'è qui proprio una cultura che gli viene inculcata fin da piccoli il tirreno sballo nei vagoni treno bloccato decine di ragazzi ubriachi sulla Lucca Pisa è successo anche questo il personale è stato costretto pensate a fermare il convoglio poi la storia di una giovane lucchese scelgo Londra per lavorare Valentina Picchi stilista in fuga per i costi della partita IVA bene dobbiamo fermarci per la pubblicità quando torniamo affrontiamo ancora altri argomenti con Vincenzo e Michele dobbiamo cominciare ad anticipare un po' qualcosa anche sulla finale internazionale no Vincenzo perché sarà anche una grande vetrina anche quest'anno e non so giocherete anche su altri campi se non sbaglio noi giocavamo a barca al palazzino ecco allora vedete che poi alla fine tutto non torna purtroppo linea alla regia e torniamo tra poco 9 e 4 minuti ancora in diretta dagli studi del TG9 per questa puntata di mercoledì 11 marzo 2015 dedicata sia chiaramente al Cefa Basket Castelnuovo al tornetto nazionale di minibasket che sta vivendo la fase regionale ma approfittando della presenza di Vincenzo Suffredini che è responsabile della protezione civile di Castelnuovo Garfagnano abbiamo parlato molto anche di quella che è la realtà del nostro territorio purtroppo di questi eventi di queste calamità naturali Vincenzo ormai purtroppo sempre più più frequenti tra terremoti alluvioni e adesso anche tempeste di vento non so adesso veramente questa poi forse ha colpito ancora di più perché è stata una cosa anche abbastanza inaspettata perché è vero che era stata emessa un'allerta meteo per il vento però si pensava non so alle solite burrasche ma ne sono già stati emessi altri non frequentemente ma anche altre volte erano già stati emessi allerta però non si pensava a nulla del genere non credo che nessuno pensasse voglio andare velocemente sul sito dello schermo che parte con questa foto vedete qui si lavora siamo a Forte dei Marmi Forte dei Marmi che fa la conta dei danni causati dal vento almeno 4.000 abitazioni lesionate poi la fondazione Cassa di Risparmio di Lucca regina del mercato immobiliare col suo fondo protagonista della Fara Energy Park di Milano e poi operazione Superstore arrestato settimo spacciatore inizialmente come sapete erano sei poi è stato peccato anche il settimo e poi tante altre notizie Michele che torneo stiamo vivendo tornando al mini basket al Cefa queste prime due domeniche che torneo è stato che squadra hai visto ascolta il livello è buono le squadre si impegnano i bimbi sono contenti si vede che la partecipazione dei genitori degli istruttori ogni domenica vuol dire portare a Castelnuovo parecchia gente chiaro che i bambini di 10 anni non è che facciamo una macchinata andiamo su da noi sulle 300 persone ci sono squadre faccio un esempio l'ultima giornata la Spezia è venuta con un pullman con tutti i genitori al seguito erano una cinquantina di persone una squadra sola e delle squadre viste finora che sono state 6-10 ce n'è stata una che ti ha impressionato questi qui la squadra che ha vinto la prima giornata è un buon gruppo ottimo invece tornando alla finale internazionale qualche anticipazione Vincenzo ce la puoi dare internazionale significa che ci saranno squadre che arriveranno anche dall'est sì dall'estero quindi abbiamo la squadra bielorussia della bielorussia ormai questo è il quarto anno anche a seguito diciamo noi facciamo anche un progetto particolare con la bielorussia partito lo scorso anno e lo scorso anno sono venuti c'è anche un gemellaggio o no? sì c'è anche un gemellaggio poi c'è un progetto chiamato summer camp perché ha visto 250 ragazzini della bielorussia venire quest'estate a Castelnuovo e diciamo nella valle e partecipare ad un progetto da un organizzato sportivo ma non di basket pur di disciplinare sono venute squadre di calcio squadre di tennis di nuoto di biatron e abbiamo collaborato con l'associazione con la focolaccia di Lucca con il nuoto di Bagni di Lucca abbiamo costruito questo progetto sportivo torneranno anche l'estate prossima e torneranno stiamo lavorando per farli tornare anche l'estate prossima quindi con la bielorussia c'è questo rapporto un po' particolare poi gli ungheresi la squadra ungherese di Budapest da sempre loro che c'è stato un periodo che hanno però diciamo sono tra quelli che ormai sono nostri affezionati amici la squadra croata che ormai anche loro da anni arrivano continuamente e poi abbiamo la squadra vincente della scorsa edizione che è il Caossi Basket Forlì Calderara Bologna Mogliano Treviso poi abbiamo il CS Free Basket di Milano poi dovremmo avere un'altra squadra di Reggio Emilia nuova e poi insomma le iscrizioni sono ancora aberte quindi stiamo cercando di chiudere il lotto di 16 squadre come riuscirete a sopperire al problema del palazzetto dello sport di Barga il palazzetto di Barga purtroppo crea qualche problema perché noi da anni era già impraticabile mi sembra prima della tempesta di vento sbaglio sì sì no no già da prima adesso addossare la tempesta di vento anche la responsabilità del palazzetto di Barga era già chiusa aveva già dei problemi quindi questo ci comporterà stiamo vedendo probabilmente concentreremo tutto su Castelnuovo il torneo dispiace molto perché Barga è l'ex assessore perché non è più assessore Giovannetti anche lui abbiamo fatto tantissimi anni di collaborazione con Barga lui è stato uno che ha creduto sempre in questo torneo che l'ha portato a Barga e lo voglio anche ringraziare pubblicamente per l'apporto sempre che ci ha dato e vedremo però almeno in quest'anno di riuscire magari a concentrarlo su Castelnuovo e insomma dovremo fare qualche piccolo accorgimento però insomma non credo non ci dovrebbero essere problemi per questo la tempesta di vento è riuscita a provocare danni anche diciamo alle strutture artistiche al patrimonio artistico e culturale della nostra della nostra zona anche al Parco della Pace pensate a Sant'Anna di Stazzema che ricorda la strage nazifascista di 70 anni fa vediamo com'è la situazione la tempesta di vento del 5 marzo scorso non ha solo sradicato alberi e rovinato colture ma si è portata via anche un pezzo della memoria nazionale divelta dal suo basamento la lapide dell'ossario di Sant'Anna di Stazzema che riportava incisi i nomi e le età di molte delle 560 vittime del tragico 12 agosto 1944 quando la ritirata nazifascista trovò tra queste montagne il suo capitolo più sanguinario un luogo simbolo al cospetto del quale numerosi capi di stato e semplici cittadini hanno reso omaggio ad accorgersi dello scempio è stato domenica mattina un altro dei simboli di quel tragico giorno Enrico Pieri unico sopravvissuto ancora in vita della strage e presidente dell'associazione familiari e vittime di Sant'Anna Pieri che all'epoca dell'eccidio aveva 10 anni racconta così le emozioni di trovarsi di fronte a ciò che il vento aveva lasciato dietro di sé mi ha preso la disperazione perché ho pensato questa volta non ce la facciamo più a rialzarsi da questa catastrofe perché veramente è stata una catastrofe e sono rimasto male e dico già avendo un'età avanzata così dico e poi insomma quello che rappresentava perché qui quando vengono tutte le scolaresche davanti a questa lapide insomma vedono veramente come toccare quasi le persone perché dire tante persone dire così a voce ma quando le vedi l'elenco uno dietro l'altro e l'attacchi poi vedi l'età e vedi sconendo veramente era una testimonianza per tutti questa lapide ma non è stata soltanto la lapide dell'ossario ad essere danneggiata tutto l'intero parco della pace ha subito gravi danni prima tra tutte la chiesetta il cui tetto è stato scoperchiato poi il percorso della via crucis che dalla piazzetta porta all'ossario è attualmente impraticabile per il pericolo di crollo di altre piante chiuso anche il museo della memoria di fronte a tanta distruzione il comune ha istituito immediatamente un codice IBAN dove poter effettuare donazioni con la causale salviamo il parco nazionale della pace di Sant'Anna di Stazzema noi dopo aver preso visione di questo ci siamo sentiti in doveri lanciare un appello un appello una sottoscrizione per tutti coloro che vorranno partecipare per salvare il parco nazionale della pace abbiamo bisogno proprio delle istituzioni a tutti i livelli per ricostruire e far rinascere il parco nazionale della pace io dopo aver visto questo servizio veramente non credo non ci sono più parole perché il fatto è che ormai siamo quasi a una settimana dall'evento ma giorno dopo giorno si scopre veramente che è stato è stato un disastro come credo pochi se ne ricordano negli ultimi decenni purtroppo è così adesso voglio prima di andare in pubblicità e poi l'ultima parte sai Vincenzo Michele la dedichiamo allo sport voi siete gente di sport siete gente di basket ma credo non sono non lo so poi ve lo chiederò voglio farvi vedere invece chi ha motivo di sorridere stamani perché c'è anche chi ha motivo di sorridere Corriere della Sera guardate guardate che foto i colleghi di Corriere della Sera non lo so voglio dire è Corriere della Sera dicono scegliamo una foto con un sorriso a quanti sono i denti 32? ma lì sono il doppio il doppio 128 processo Rubi Berlusconi assolto guardate com'è felice torno in campo vabbè poi salario minimo perché senza contratto magari ecco qui se ci mettevano una foto di un italiano medio magari sorrideva un po' meno l'ipotesi di 6,5 7 euro l'ora qui non ci hanno messo la foto qui ci hanno messo invece guardate come sorride vabbè dai andiamo in pubblicità e torniamo subito dopo parliamo di sport voglio capire sia da Vincenzo però non te l'ho mai chiesto Vincenzo perché noi ci conosciamo da tanti anni sempre per i motivi legati insomma a parte la protezione civile al basket non ti ho mai chiesto se hai altre altre passioni sportive stamani te lo chiederò a tra poco ultimo blocco di buongiorno con noi di questa puntata di oggi mercoledì 11 marzo tra l'altro oggi è una giornata importante lo dico subito anche per il processo relativo alla strace di Viareggio del 29 giugno 2009 proprio qui possiamo dire a un soffio d'aria da noi ci saranno dovrebbero venire sono stati convocati come testimoni due personaggi del calibro di Diego della Valle di Luca di Montezemolo Luca Cordero di Montezemolo noi naturalmente siamo già con i nostri colleghi qui basta hai visto non avete visto basta scendere le scale e siamo lì alla ex Bertolli dove si svolgono le udienze per il processo della strage di Viareggio ci sarà anche tanta gente insomma la presenza di due personaggi di quel calibro lì vabbè diceva una cosa Vincenzo prima di passare allo sport è che Dio ha voluto Dio ha voluto perché ormai credo dobbiamo appellarci solo a lui a questo punto Dio ha voluto che comunque proprio per chiudere il discorso su questa tempesta incredibile tempesta di vento che tutto ciò sia accaduto nella sua forma più cruenta di notte Sì a dispetto di altri eventi essere accaduto di notte mentre il sisma di notte è molto più pericoloso in questo caso l'evento essere successo nelle ore diciamo della notte probabilmente ha salvato le persone ha aiutato e probabilmente anche salvato perché io al di là del povero Tortelli che in maniera veramente in maniera casua sì no The Final Destination sì no quel film dove comunque la morte ti ha dato appuntamento ci sono mille cause mille concatenazioni però che sia successo di notte l'evento è stato vedere le strade anche la nostra frazione di Palleroso che è stata la più colpita completamente color mattone completamente color mattone oppure la gente che transitava per le strade che gli alberi ti venivano addosso in questo caso essere avvenuto di notte ha salvato le vite umane secondo me ha salvato parecchie vite umane Michele basket per quanto riguarda lo sport o ci sono altre passioni che so hai giocato a calcio hai no io come sport praticato personalmente basket no però lo sport in generale mi piace lo seguo lo segui un po' in linea generale grandi avvenimenti soprattutto allora vediamo i giornali sportivi cominciando dalla gazzetta dello sport Milan il piano B in tutti i sensi il piano B sia perché il nome di questo tycoon thailandese sia perché beh come è scritto così in inglese almeno credo che la pronuncia dovrebbe essere quella poi andremo a informarci se in thailandese forse si pronuncia beh non lo so Milan il piano B Fininveste smentisce ma il broker punta al 51% con Maldini quindi rilanciando nel Milan la figura di un grande giocatore grandissimo giocatore del Milan quale Paolo Maldini l'idea è di riportare l'ex capitano in società con un ruolo operativo Berlusconi potrà tornare indietro solo pagando la penale quindi prima la rideva ma forse rideva perché a questo punto non lo so forse ha detto comunque il Milan ormai lo lascio e vabbè comunque poi c'è un altro personaggio che ride Sergio Marchionne la mia Ferrari da Paisà Marchionne vette il pace e saggezza Alonso era giusto cambiare poi anche la gazzetta naturalmente al centro qui con questa fotonotizia da spazio allo schianto in volo tra i ricotteri la Francia piange tre campioni abbiamo detto di Camille Mufat che forse era la più famosa ma anche la velista Artaud e il pugile Bastin poi vabbè la Champions League di sera se l'è vista brutta un bruttissimo io devo dire la verità ho visto solo il primo tempo poi sono crollato però ha rischiato di crollare anche Real Madrid che ha perso 4 a 3 in casa con lo Schalke 04 un bruttissimo Real Madrid non so che avanza tra la pagnolata la pagnolata come sapete quando i tifosi madrileni sventolano i fazzoletti bianchi in segno di poco apprezzamento poi QS Sport ribaltone si parla sempre del Milan Inzaghi e lo stesso Galliani che a questo punto soprattutto se ci sarà il cambio di proprietà potrebbe rischiare Euphoria Juve ora Pogba non ha prezzo Agnelli pronto a blindarlo è allarme Inter Handanovic vuole la Roma 15 milioni per il fair play poi la Vada qui si parla di doping contro Carolina Costner merita una squalifica più lunga beh non che Carolina Costner sia stata trovata positiva ma per omessa denuncia quando era fidanzata con Schwarzer l'agenzia mondiale antidoping chiede nell'appello al tasto di Losanna dai 2 ai 4 anni a proposito di grandi avvenimenti abbiamo detto vabbè qui per la cronaca c'è il processo oggi con la presenza di Montezemolo e della Valle per oggi c'è un grande avvenimento ciclistico nella nostra provincia la Tirena Adriatico che parte con una cronometro individuale anche lì il maltempo ha costretto gli organizzatori a rivedere un po' le cose allora ciclismo oggi al via 7 tappe 2 mari e 3 campioni bel titolo con la Tirena Adriatico parte la stagione primo scontro Nivali eccolo qua in maglia gialla Contador Quintana e pensate che ha dato forfè Chris From e poi ancora invece parlando di Lucchese Galderisi suona la carica ieri la squadra ha ripreso la preparazione dice il tecnico occhio al Forlì ma battiamolo e contro il Pisa è il mio compleanno sabato prossimo il Forlì poi mercoledì prossimo ci sarà il turno infrasettimanale con la trasferta di Grosseto e ancora di sabato perché ormai quest'anno la Lucchese almeno in casa gioca sempre di sabato sabato 21 il derby con il Pisa sempre alle 14.30 la situazione dall'infermeria Strizzolo recupera Calistri e Chianese no contro il Forlì tradizione favorevole al Porta Elisa contro il Romagnoli poi c'è la Coppa Toscana di prima categoria l'unica squadra rimasta in lizza delle nostre Villa Basilica che gioca oggi a Roselle che vi dico subito è una località che si trova nella zona della Maremma allora tu invece Vincenzo basket basket io agonisticamente ho giocato ad altro tranne che al basket ah sì cosa hai fatto? io ho fatto calcio sono arrivato in promozione col Castelnuovo giocavo in Porta eri un? portiere eri portiere sono stato vice di Luigi Angelini in promozione addirittura poi dopo partì militare poi continuato seconda terza categoria e quindi diciamo a livello agonistico giocavo a calcio ho fatto tennis quindi Castelnuovo hai continuato a seguirlo poi? sì certo ho fatto prima di partire col basket ho fatto anche allenatore dei portieri a Castelnuovo e poi dopo gestata questa avventura che per tutta una serie di coincidenze che ha travolto che ha completamente stravolto tutto voglio dare una notizia che poi magari riprendiamo anche in Etici Sport della sera che ho saputo proprio possiamo dire poche ore fa ricordate mi rivolgo soprattutto agli sportivi agli amici di Castelnuovo in particolare agli sportivi che seguono il Castelnuovo inteso come calcio ricordate Roberto Girotti lo ricordate? no no mi dire che non lo ricordi andrebbe ricordato e va ricordato perché è stato l'ultimo presidente del Castelnuovo in C2 ah sì girò sì ora pensavo no no certo pensavo alle tempeste di vento no no pensavo pensavo a un atletta e a varie tragedie ti sarebbe venuto in mente anche questo personale da pochi giorni è diventato presidente della Centese Calcio Cento è una località in provincia di Ferrara che possiamo dire gli diamo un grosso in bocca al lupo al di là dell'Appennino non so se gli amici di Castelnuovo sarebbero molto d'accordo credo di no però insomma siccome nella vita non bisogna mai voler male a nessuno diciamo pure in bocca al lupo Girotti e magari da quelle parti da quelle parti fai qualche danno in meno eh va bene e volevo dirti una cosa lo dovevo dire lo dovevo dire volevo dire invece un'altra cosa io avevo ripartizzato per la sua eleganza come si presentava io l'avevo già ripartizzato la land alone del presidente per la sua avvenenza e poi ha fatto molte donne erano rimaste affascinate poi vabbè è finita da novembre 2007 a giugno 2008 è finita con il Castelnuovo che è dovuto ripartire dall'eccellenza va bene tra i nostri allievi del mini basket abbiamo un nazionale ah non di mini basket ma di questa è una domanda che è in antebrivo mi fai quiz Vincenza le nove di rugby di rugby di rugby hai detto? sì ah e chi è questo? Biasi di Varga Giorgio Biasi eh Giorgio Biasi lo so ne abbiamo parlato fa parte della nazionale è iniziato nel mini basket era nostro ha fatto il torneo accidenti come mini basket eh questa la sanno in pochi ha giocato per tre anni è venuto anche a Budapest a giocare a Budapest poi è diventato un fortissimo eh sì vabbè dopo lui si trasferì in Scozia è iniziato e forse avremo una sorpresa per il torneo e la chiudo qua questo la devi far sapere allora vabbè e non siamo ancora sicuri per la fase internazionale per la fase internazionale no ti brillano gli occhi Michele perché hai giocato a tuoi tempi giocava con la squadra insieme a me giocava con lui mi hanno fatto un paio di anni insieme in torneo in Spagna insieme eh avete dato una bella notizia questa non la sapevo eh la sanno in pochi avresti pensato che così eravate bambini ma era già fisicamente ben piazzato era era scordinato a quel tempo era un po' scordinato era un po' era un po' quindi ora immagino quando ci sono le partite del 6 nazioni per fortuna l'Italia l'ultima la vinta e beh c'è e Giorgio è stato ancora una volta tra i protagonisti è stato bravissimo un titolare tra l'altro immagino che da ex compagno lo segui eh sì 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 non solo io ne parliamo Castelnuovo fra fra tutti quelli insomma di età che giocavamo insieme siamo tutti contenti e chi l'avrebbe detto eh sì più di una volta l'abbiamo detto ma ora Giorgio dove vive qui o vive in Scozia ogni tanto ha ancora il papà a Barga sì sì lo so ancora il papà no vabbè lui ha un sacco di impegni però va bene bravo Giorgio no no noi ne abbiamo già parlato in alcune occasioni ricordando appunto che questo ragazzo di origini barghigiane sono molti barghigiani che hanno diciamo mischiato la loro vita con la Scozia no c'è questa molti barghigiani anche a Glasgow da quelle parti ne abbiamo parlato però non sapevamo che insomma ha iniziato e ha giocato per tre o quattro anni fosse partita da CEFA addirittura va bene niente io credo che siamo in chiusura sono le 9.26 Vincenzo ti ringrazio di essere stato con noi grazie a voi allora niente prossimamente parleremo magari anche con il supporto di immagini del CEFA del torneo di minibasket CEFA di cui come sai diamo sempre notizie settimanalmente poi il grande appuntamento è quello per la finale internazionale così magari con la presenza di un grande campione del rugby come Giorgio Piagi grazie anche a te Michele grazie a voi tocca al lupo per domenica speriamo che le cose faremo il possibile vadano bene comunque a questa età l'importante è divertirsi di qualità di questi bimbi bene ringrazio anche Marco Cervelli buongiorno con noi torna giovedì mattina domattina alle 8.30 credo credo che in studio ci sarà il collega Lorenzo Bertolucci per quanto riguarda il sottoscritto l'appuntamento delle 8.30 è per la prossima settimana vi dico subito che martedì mattina martedì prossimo alle 8.30 sarà una trasmissione da leccarsi i baffi non aggiungo e poi ricordatevi che sto sempre preparando quel buongiorno con noi terribile no terribile vabbè terribile in cui insomma ci sarà questo personaggio che vedremo vedremo cosa racconterà a proposito di clima e cambiamenti climatici perché c'è una parola che ultimamente gira gira sul web gira invernizzazione l'hai sentita? no sinceramente no pensavo tu l'avete no sinceramente si parla di clima globale è certo invernizzazione andate a leggervi qualcosa grazie amici di essere stati con noi grazie a voi e tra poco la prima edizione del TG Noi buongiorno quello che dice se ne assume ma chi è questo è uno che non conosco personalmente ma di dove ci devo parlare qui nella zona di buca che non faccia andare il mismo che non faccia andare il mismo e quindi dove è il problema che è quello che c'è un po' a te a posto